Che è sta storia che vuoi fare un film drammatico? Ma come cazzo avete fatto un due appartorina stronzata del genere? Ne devi tornare a fare i film coi personaggi! Ma questa è fantascienza! Ma a te mi aspetto di tutto, Carlo. Controllatina la pressione? Sì. Che succede, ragazzi? Succede che io e Chicco ci siamo lasciati. Facciamo che questa casa la viviamo solamente noi come famiglia stretta? Io me ne vado! Ma perché i pranzi e le scene devono fare tutti così? Qua c'è un problema. Un altro. Che problema c'è? Cosa potevo fare sempre? E' famosa sempre. Il problema di questa città è una carenza di educazione civica. E' sozza Roma! Noi vogliamo che tu faccia il sindaco di Roma. Ma in che senso? C'hai la faccia da sindaco, sì? Eccolo, eccolo! Avevo proprio bisogno di un momento di quietio. Ma se io lo invito una sera a cena. Puoi evitare di rispondere al telefono per una volta? Tanto io devo andare via un minuto. Certo che devi andare via. Io rivoglio i personaggi. Ma anche i primi film erano piedi di malinconia. Ti vivi proprio male. Che vita. Che vita. Che vita. Che vita. Che vita.